ben tornati in diretta al trucco gioco delle carte di gustavo roll non c'è nessun trucco veramente ripeto è solo sono esperimenti di gustavo roll riguardo le carte adesso devo fare le cinguine non facciamo tutte le cinguine come il poker cioè le cinguine come il poker non le facciamo tutte ne facciamo le prime tre che sopra il video asce troppo lungo come si come si cercano le cinguine si scopre più una terza carta e poi la nona vediamo un po devo fare che cinguine in pochi minuti 1 2 e 3 gioco 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 9 gioco 1 2 e 3 k la cinguine è molto più difficile ragazzi quando pare devi fare un pull 1 2 e 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 2 2 dipikolli 2 dipirsi avanti 1 2 e 3 4 5 6 7 8 e 9 5 e già sto alla prima, cioè 1, 2, 3, 4, 5, già sto alla prima cinguina, ho detto 1, 2 e 3 come la trinità, 2 subito andiamo, 2 di fiori, la prima cinguina sta là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 9 di quadri, 1, 2 e 3 a Valerius, Joker, un altro Joker, fortunato, 9 là, ci abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, pronti, le carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 2 di quadri, niente, 1, 2 e 3, trinità, 3 di cuori, 3 di cuori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 8, 8, 8 di fiori, cioè un K di fiori, qua sto facendo il full, 1, 2 e 3, tra volte i fiori saffortunati, e collezioniamo un bello 1, 2, 3 di cuori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 7, 7, gli strano alla lenza un po', il 7 porta un po' di sfortuna a me, in questi giochi di carte, 1, 2 e 3, la trinità, 8 di cuori, 7, ci abbiamo 8 e 9, la trinità, quindi altri 9, le carte, qua non c'è nessun gioco, nessuno bara, e solo potenza spirituale, 1, 2 e 3, 7 di fiori che serve, eccoli qua i fiori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 4 di cuori, ancora cuori bene, 1, dai che la voglio chiudere subito, 2 e 3, jack di cuori che serve sempre, 1, qua faccio i full, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 3 di fiori, 3 di fiori, è finito, praticamente sto finendo tutto, tutto la maradamma dei fiori, 1, 2, 3, 4, 5, ci manca il 6, ci mettiamo il gioco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 9 di picca, vai con la trinità, 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 9 di picca, vai con la trinità, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 6 di quadri, 6 di quadri, 6 di quadri, 6 di quadri, abbiamo il 6, 9, 8 di quadri, 11, 2, 3, 6 di quadri, 8, 7, 8 e 6, praticamente sto facendo più della cinquina qua, 4, 6, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e la nona sinfonia di Beethoven danno un bel cu di fiori 1, 2 e 3 a Valerius scappa di quadri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 8 di quadri 8 di quadri tutti full stanno uscendo qua l'importante è il tempo secondo me spostiamo sti libri così abbiamo un quadro più i quadri 1, 2 e 3 Joker Joker lo mettiamo finiamo fin qua finiamo col full jack Q e K Q e K jack Q e K finiamo qua per ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Q di cuori che mi danno sempre soddisfazione jack Q e K va qua scusatemi la tosse 1, 2, 3 K di picche che vanno male questo è brutto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 10 di quadri è quasi finito il full 1 pensavo di cinguino 3 come il poker 6 ah, ora vanno pure questi ce ne mancano pochi ragazzi vediamo quando mettiamo e ci mettiamo 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 5 1, 2 e 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 4 di quadri pronto e qua abbiamo finito quasi finiamo tutte le carte vediamo un po' vediamo un po' ci rimangono le picche le picche su quelle che hanno avuto di meno 2 di picche asso deve uscire 7 5 e 6 ok 1 2 e 3 a Valerius 5 di quadri è finita è finita anche qua jack u cap ci manca il jack altre 9 dai vediamo quando ci mettiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 vi ricordo che io sono comandato da uno spirito intelligente per scrivere per fare questo quindi abbiamo finito qua abbiamo chiuso perché c'è un altro un altro bel jolly teniamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 ci manca il jack ci manca il jack continuiamo 2 3 a Valerius jack ancora ancora altro jolly dove lo mettiamo lo scartiamo proprio è un altro jolly 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 4 di picca e ora le picche incominciano ad andare ok 1 2 e 3 ancora picca gioco quasi finito 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 e la nonna sinfonia di Beethoven vanno un bel 10 fiori che mi libera un altro jolly 2 1 2 1 e 3 a Valerius 1 2 e la nonna sinfonia di Beethoven 1 2 e la nonna sinfonia di Beethoven e la nonna sinfonia di Beethoven e la nonna sinfonia di Beethoven l'abbiamo finito praticamente perché se io metto l'asso di picca 2 3 ci manca ci mettiamo il 3 qua 3 qua 4 5 6 7 8 9 ci manca il 10 il 10 10 Jack Jack 9 andiamo 1 2 2 3 4 5 6 7 8 e 9 K di cuore a posto 1 2 e 3 10 eccolo qua 1 2 3 4 5 6 7 7 quanto tempo sta scurrendo? 9 ci abbiamo 5 di cuori e sono finite le carte e non sono uscite cinquine questo esperimento è stato strano 7 di cuori eccolo qua abbiamo però finito subito in tutte le carte abbiamo finito subito in tutte le carte abbiamo finito subito in tutte le carte 1 2 vabbè mischiamola perchè questa è finita non è sto finito proviamo a controllare così dai proviamo a controllare così allora abbiamo abbiamo asso di picco che non è uscito per esempio i jolly abbiamo il 2 il 3 il 4 il 5 il 6 il 7 il 8 il 9 il 10 i jack il q e il k ci abbiamo 1 2 3 4 5 questi sono usciti tutti subito 7 8 9 10 jack q e k i fiori ci abbiamo jolly passo di cuori 2 3 4 5 6 7 8 9 ci manca il 10 ci manca il 10 qua che posso mettere sempre un jolly metto un jolly qua 10 1 i quadri quelli che piacciono a gustavo ora ci manca il 3 di quadri il 3 di quadri ci manca alla fine 3 4 5 ma io l'avevo contato io in questo esperimento volevo provare delle cinguine fammi di jack q e k vabbè questo è l'esperimento l'esperimento era nato un po' per le cinguine del pop per fare la cinguina 1 2 3 4 3 5 ma sono usciti tutte le carte alla fine una dopo l'altra ok alla prossima spero che il video vi sia piaciuto non c'è nessuno è totalmente irrazionale questo gioco non c'è nessun trucco matematico vengo suggerito da uno spirito intelligente non c'è nessuno